ho controllato ho cancellato prima oggi ho cancellato pure tutta la GoPro non lo sai quindi ne uno ne l'altro no la GoPro funziona no la GoPro funziona non si è funzionato tutto il primo tempo ma io non lo so dove cazzo lunga Billi c'è l'uomo addosso che bello non lo so testa al portiere guardabile Max guardabile Max testa al portiere questa è quella Grazie a tutti. 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 Tra l'avanzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti è... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. a tutti.